La mia pulce La prima cosa speciale a proposito di pulce è che lei non parla, ma questo non significa che non abbia niente da dire e che non si può mai sapere bene cosa c'è nella sua testa. Che cosa significa che mia figlia non c'è? Il Tribunale dei Minori ha disposto che sua figlia debba essere inserita in un contesto protetto. Avete capito che cosa vogliono? Si sa solo che il problema sono io. Forse qualche volta sei stato troppo brusco, troppo affettuoso con le bambine davanti agli altri.